Ieri, e quello che abbiamo ascoltato con tanta passione oggi, sono stati interventi che hanno espresso tutti una consapevolezza che non è ascoltata purtroppo e che non è acquisita per sempre. La risposta alla e alle pandemie è sempre e soltanto insieme e solo insieme troviamo possibilità per sopravvivere, perché le conseguenze del discorso ascoltato adesso è che non c'è sopravvivenza se non per qualcuno, ma poi anche i 500 a un certo punto non ce la fanno più. Insomma, ne va del futuro, lo comprendiamo meglio tutti oggi venendo fuori da questa lunghissima emergenza, o quasi venendo fuori, che ha permesso anche delle soluzioni straordinarie come la collaborazione per arrivare rapidamente a un vaccino. Ma se pensiamo alla sofferenza che ha creato a popolazioni intere da aiutare, e lì si vede che ancora non è acquisito, che siamo tutti sulla stessa barca, le percentuali che abbiamo ascoltato prima delle vaccinazioni, a popolazioni interi a quali siamo legati, perché è proprio vero che siamo sulla stessa barca, dobbiamo riconoscere purtroppo che ancora è una consapevolezza che non ha superato la tentazione opposta, cioè quella di continuare a credere e di poter restare sani anche se il mondo è malato. È la tentazione di tanti io, io collettivi, azienda, che illudono di proteggere tanti io isolati. L'uomo, ancora di più quello digitale, non è un'isola, anche con tutti i diritti garantiti, ma isolati. Tante felicità individuali non faranno mai la felicità, perché questa è sempre al plurale. Manca il diritto al noi, manca la relazione, che è l'unico modo per trovare l'io. Cassiodoro nel V secolo diceva che solamente sarò mio se sarò stato tuo. E questa è la grandezza di incontri, come quello che stiamo vivendo, che uniscono spirituale e cultura della vita, ricerca di Dio e passione per l'uomo, identità e dialogo, credenti e non, fedeli, anonimi e capi religiosi. Essi rappresentano un denominatore comune che non rende tutti uguali, ma tutti vicini e uniti. Qui capiamo meglio che la casa è comune e che è possibile la casa comune. E se non è possibile la casa comune non c'è la terra, non c'è il futuro per l'uomo sulla terra. Essendo per davvero dobbiamo porre attenzione a favorire il più possibile una politica comune, quella che permettere di vivere a tutti. Chiederei volentieri a Jeffrey sulle difficoltà che ha come consigliere, non tanto ma che ha l'ONU per poter imporre davvero delle politiche che siano davvero di tutti. La cura significa che è possibile guarire la terra malata e anche che dipende da ciascuno e non da un gestore esterno e io faccio quello che voglio. Casa comune è un'espressione di Papa Francesco che è alla base di tutta la laudato sì, documento che purtroppo non è invecchiato. Anzi, dico purtroppo perché le preoccupazioni da cui nasceva, le abbiamo anche ascoltate questa mattina, in realtà sono ancora lì ed era quella di far crescere la consapevolezza che è indispensabile per la sopravvivenza prendere decisioni e che è urgente farlo per garantire al pianeta di continuare ad esistere e di essere una casa comune per tutte le persone e non un inferno per tanti, un paradiso per pochi, l'abbiamo ascoltato, ma anche per poco. Ecco, queste preoccupazioni sono ancora tutte attuali, anzi, in questi anni abbiamo verificato il rischio di credere di poter non far niente, lo svuotamento degli impegni presi, anzi in alcuni casi aver smentito gli impegni presi, rendendoli auspici soltanto o lasciandoli lettera morta. Dobbiamo favorire quello che permettere a quel noi di esistere e di poter resistere alle tante pandemie che oggi lo attraversano, a quelle temibili e prevedibili che lo investiranno, perché se non si fa niente, se si fanno tante scelte dettate dall'economia e dallo sfruttamento, questo avrà delle conseguenze. Occorre cioè davvero dotarsi degli strumenti necessari per far funzionare di più quelli che ci stanno. Questo non è un auspicio di anime belle, come si suol dire, infatti non saprei cos'è il contrario, ma comunque, non è un auspicio di anime belle, ma è l'impegno di consapevoli che non si arrendono, non è ingenuità, ma è vero realismo per noi e per quelli a cui rubiamo il futuro, cioè quelli che ci saranno dopo di noi, come ha detto così bene il ministro degli esteri della Tanzania. Fa bene all'io pensare al dopo di lui e fa bene a noi lavorare per chi ancora non c'è, ma ci sarà e ha diritto di starci. Un'ultima cosa, la Costituzione italiana, frutto della dolorosa consapevolezza successiva alla grande pandemia della Seconda Guerra Mondiale, è forte della convinzione che solo insieme se ne esce e si combatte ogni ideologia suprematista e la logica pericolosa del più forte o del più ricco, in uno degli articoli, per questo tra i più importanti, condanna la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e dice, non dice condanna, ripudia la guerra. Si ripudia quello che si era scelto o che si è per troppo tempo accettato e che si è accorti di essere un male, per cui lo ripudio. Dobbiamo condannare l'idea e la prassi che la guerra sia una soluzione per i problemi, come peraltro abbiamo visto recentemente in una delle guerre più lunghe e onerose. Dalle elezioni dobbiamo però cercare almeno una consapevolezza e prendere delle scelte che evitino, che si ripetino. Dobbiamo continuare a sognare, sempre con gli occhi aperti e di giorno, come direbbe Papa Francesco, che la guerra sia abolita e dobbiamo iniziare a farlo lavorando per la pace, risolvendo i tanti, troppi pezzi di quella stessa guerra mondiale, perché ogni pezzo è mondiale, mondiale, che purtroppo bagnano la terra con il sangue del fratello. È come dimenticare il pericolo del nucleare, è come che è davvero un peccato conservarlo, quindi è un peccato non far nulla per smantellarlo, perché ogni guerra è sempre fratricida ed è sempre un inquinamento che versa nel mare del mondo, peraltro anche tanto inquinato, odio e violenza che arriva poi a tutti. E infine la Costituzione italiana indica anche un modo per farlo, che è questo, che è curioso, limitare, previsto nella Costituzione, parti della sovranità nazionale, se necessario ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuovendo, ed è sempre della Costituzione, di favorire le organizzazioni internazionali rivolte a talo scopo. Credo che potrebbe essere un buon articolo per tutti i Paesi e soprattutto per questa nostra Casa Comune, perché Fratelli Tutti è una grammatica per imparare ad essere quello che siamo, fratelli. E da credenti abbiamo una responsabilità per certi versi in più, perché chi cerca il cielo, chi guarda il cielo, impara a vivere meglio sulla terra. E le religioni non sono la causa delle difficoltà, ma la soluzione. E guardare il cielo ci rende consapevoli che dobbiamo imparare a vivere insieme. Chi entra in relazione con Dio impara ad entrare anche in relazione con il prossimo, che è uno di casa, non un estraneo. E guardando il cielo, capiamo, relativizziamo i confini nel cielo dove non ci sono. È il principio della fraternità, adesso troppo limitata e ridotta alla lista dei soci del mio gruppo e a quelli che conviene al mio io. La fraternità che non potrà mai accettare l'ingiustizia di persone con la fame e quei sistemi, come veniva detto, di peccato. Dio ha affidato questa Casa all'uomo per farne un giardino. Tutto, non soltanto l'Italia, che peraltro effettivamente lo è molto, per farne davvero un giardino e non un inferno. Non durano a lungo i paradisi isolati e la terra non è un inferno. Può essere tutta un paradiso se aiutata dallo spirito di Assisi che indicherà sempre l'unica grande prospettiva di Dio. Fratelli tutti. È l'alleanza possibile per la salvaguardia del creato e della società umana. Per la prima volta l'uomo ha nelle sue mani la possibilità di distruggere se stesso. Forse noi per la prima volta abbiamo tanta consapevolezza perché la terra resti quel giardino che ci è stato affidato. Grazie.